Ecco, qui comincia la zona 30 di Casal Monasterio che abbiamo appena inaugurato. Ne stiamo facendo 70 in tutta la città, ma dovranno diventare molte di più insieme ai black point per ridurre gli incroci pericolosi, insieme agli attraversamenti pedonali con le strisce, insomma tanti interventi e anche una nuova campagna di comunicazione per migliorare la sicurezza sulle strade. È un intervento molto importante, non solo per ridurre la velocità delle auto e aumentare la sicurezza dei pedoni, ma per cambiare lo spazio urbano, perché insieme alla riduzione del limite di velocità sono state ristrette le carreggiate, allargate i marciapiedi, creata una piazza con spazi verdi. Insomma, è stato cambiato lo spazio della città per renderlo più a misura di persone, di pedoni, di ciclisti e anche per migliorare la stessa circolazione, perché con le zone 30 non è vero che si creano più file, ma tutto scorre in modo più fluido e ordinato. Poi qui c'è la scuola e quindi questa è una zona 30 anche con strada scolastica ed è ancora più importante che lo spazio sia a misura di persona e di bambino. Grazie a tutti.